amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno ben trovati da prima di partire con il video vi ricordo l'importanza fondamentale di utilizzare fanta lab qui sotto al video trovate il link per utilizzarla con i codici sconto veterano potete fare un sacco di cose fissare gli obiettivi cambiare i singoli prezzi dei giocatori per la vostra asta mettere le note e cambiare tutti gli indici di sicurezza che trovate a destra e vedere light map e le statistiche del giocatore singolo giocatore per singolo giocatore con l'andamento anche durante l'asta e poi fare l'asta live con tutti i vostri amici quindi veramente fondamentale importanza un grazie di cuore a fanta lab che ha dato questo strumento indispensabile per i fanta allenatori partiamo col video ed eccoci eccoci con un video importante parliamo oggi di Nicola Blasic centrocampista offensivo un classe 97 a pro dal Torino in prestito con diretto di riscatto dal West Ham Blasic è un trequartista in grado di giocare da ala seconda punta supporto di un centravanti o anche da falso 9 possiede di riscatto qualità tecniche abite nel dribbling freddo sotto rete preciso sui calci piazzati buon assist man per quanto riguarda appunto il nuovo acquisto del Torino muove i suoi primi passi nel settore giovanile dell'Aiduk Spalatone precocissimo diventa grazie alla rete segnata in Europa League contro il Dundalk il più giovane marcatore di sempre nelle competizioni europee degli spalatini nel 2016 l'allenatore dell'epoca del BG di Marianne Pursnick gli concede la fascia del capitano diventando 18 anni il più giovane capitano della storia dell'Aiduk Spalatone nel 2017 passa l'Everton per 10 milioni di sterline alla sua prima stagione in Premier League colleziona 19 presenze e completamente due reti nel 2018 passa in prestito con diritto di riscatto al CSKA Mosca gioca un'ottima stagione e con 25 presenze e 5 gol viene riscattato dalla squadra russa per 16 milioni di euro le sue stagioni migliori le vie probabilmente alla russa nel 19-20 e nel 20-21 in cui risulta il migliore marcatore della squadra rispettivamente con 12 gol in 30 presenze e 11 gol in 26 presenze nell'estate passata torna in Premier League nelle file del West Ham stagione poco soddisfacente con solo le 19 presenze e solamente un gol passa ora al Torino dove andrà ad occupare uno dei due posti dal trequartista nello scattiere tattico di Juric Brasic è sicuramente un giocatore interessante dovrà confermare le sue ottime doti tecniche e di finalizzatore ma se dovesse riuscire a trovare in zona comfort appunto qualcosa di interessante sarebbe successore di Brecalo al Torino e anche nella mente di Juric la spesa per l'asta è ovviamente legata a quanto può essere come se rendimento complessivamente Brasic al mantra è una W W anche una T quindi doppio ruolo al classic è un centrocampio io direi spesa al 38% per quanto riguarda appunto Brasic giocatore di sicuro interesse per il fantacalcio e anche per il campionato della nostra Serie A a presto dal veterano ciao ragazzi un buon fantacalcio a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti